Benvenuti amici di Fanner, ci troviamo allo stadio comunale Mirko Ricci e stiamo per assistere alla ventotesima giornata del campionato di prima categoria. Paolucci a metà campo, cerca il lancio lungo, può arrivare Matarrelli, ce la fa e batte il portiere 1-0 per il Fonte Meravigliosa. All'ottavo minuto di gioco ha segnato il numero 7, Matarrelli e porta in vantaggio la squadra ospite. Palla in attacco, può attaccare la squadra di casa, Nardini recupera un pallone, può andare il numero 8, può iniziare al tiro, lo effettua ora Matalocci, è bravo. Una buona punizione da posizione invitante, parte ora Quagliariello, ma Silvi la fa sua senza molti problemi. Occazione da calcio d'angolo per il Fonte, parte ora la palla in mezzo, segna terribili, gol del 2-0 per il Fonte Meravigliosa che mette in ghiaccio questo primo tempo al ventitresimo minuto di gioco. Punizione che batterà Pellegrini, la mette in mezzo, svetta Marino, pericolosa l'azione del Virtus Nettuna che prova a riaprirla. Solo abbattuta Nardini e Floris per provare a riaprire questo incontro. Aspettiamo solo il fisco dell'arbitro che arriva, ora parte Nardini, bella botta ma sulla quale Talocci è bravo a mettere in angolo. Calcio d'angolo per la Virtus Nettuno, palla in mezzo, Nardini tenta il tacco, magnifico, ancora buona, ancora Nardini mette in mezzo. Ancora la Virtus Nettuna in area di rigore, la palla messa in mezzo, arriva Mauro, può andare a calciare, ora il destro ancora, la palla fuori, si salva la fonte meravigliosa. Floris gira per Tamburini che si libra di un avversario, può pensare al tiro, lo effettua, Talocci è bravo a respingere, ancora il tiro, Talocci, doppio miracolo del portiere del fonte meravigliosa. Pellegrini ha la battuta, la palla in mezzo, Floris trova il gol che accorcia le distanze, 1-2 per il Virtus Nettuno, al 22esimo minuto di gioco del secondo tempo, riapre la gara. Prova ad andare Tommassini che viene ora atterrato da Mauro che, attenzione, è già ammonito e riceve ora il secondo giallo, rimane quindi in 10 la squadra di casa. Di Vincenzo, la palla in avanti sulla quale si impegna Gross e che, attenzione, mette la palla per Matarrelli che potrebbe chiudere l'incontro, Matarrelli supera Silvi e porta il fonte sul 3-1, questo gol è importantissimo che potrebbe portare il fonte in testa alla classifica. Palla solo Scalpelli e viene atterrato da Tamburini che, attenzione, è già ammonito e riceve il secondo giallo anche lui, quindi il Virtus Nettuno in 9. Ancora la palla per Scalpelli che può andare da solo sulla fascia destra, la palla di legge che può pensare al sinistro, lo effettua ora, ma Silvi non ha nessun problema nel stoppare il pallone. Calcio di punizione per la Virtus Nettuno, la palla messa in mezzo, nessuno ci arriva, colpisce il palo, poi Lodi può rilanciare. Gross prova ad andare da solo il capitano del fonte con di legge che arriva velocissimo al cento di l'aria di rigore, viene servito, tenta il sinistro e viene murato ora il destro, la traversa di legge. Punizione per la Virtus Nettuno, svetta la difesa del fonte meravigliosa, ora tenta il tiro e su questo tiro arriva il fischio finale della partita. La vittoria è importante per il fonte che grazie a questi tre punti è primo in classifica in vetro del pari tra Campo Verde e Play Euro.